Vincere è imperativo categorico per il Gela che domani alle 14.30 ospiterà al Presti la Frattese. Uno scontro importante nel chiave play-off. I campani infatti inseguono i biancazzurri e si giocheranno le ultime chance per approdare in zona promozione. Sono 7 i punti di distacco. Potrebbero diventare 10 in merito ad una vittoria gelese. Potrebbero ridursi a 4 se i 3 punti dovessero essere acquisiti dagli ospiti. Ecco perché il risultato è importante. E poi c'è da vendicare, sportivamente parlando, la batosta dell'andata. A Frattamaggiore finì 5-2 per i padroni di casa. Nessuno ancora ha dimenticato la sconfitta bruttissima dell'andata. Nessuno se l'aspettava arriviamo da buoni risultati. Quindi come hai detto tu c'è solo da vincere e soprattutto da convincere perché dobbiamo vendicare la sconfitta dell'andata e soprattutto la sconfitta della scorsa settimana che ancora pesa. Una sconfitta, quella rimediata con la Palmese, è frutto di vostre incapacità oppure anche di decisioni cervellotiche dell'arbitro? No, non ci possiamo appendere alle decisioni arbitrali. Può succedere a noi come potrà succedere a loro. L'hanno messa più volte loro dentro la porta e siamo usciti amareggiati perché comunque abbiamo dimostrato di essere una squadra di alta classifica. Però purtroppo alcune decisioni pesano. La lotta in chiave per le off è accesa. Chi insegue non demorde. Dobbiamo dimostrare di avere un passo in più rispetto agli altri. Quindi tutte le partite che dovremmo affrontare da adesso fino a maggio dovremmo affrontarle come fossero veramente finali. Nel Gela non c'è alcun titolare fisso. Tutti devono guadagnarsi in posto e squadra. Per questo il reputo sia la forza di ogni gruppo. Sapere che uno vale quanto l'altro e sapere che uno può contare sull'altro. Secondo me questo fa la differenza in un campionato del genere. Ieri è perfettamente riuscito l'intervento chirurgico al capitano Alessandro Bonaffini per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e struttura del menisco laterale. Domani sarà dimesso e dall'unedì inizierà la riabilitazione. Abbiamo chiesto anche a Brucaletta. Vi manca il capitano Bonaffini? Si sente la sua mancanza sia nell'ospedale o soprattutto nel campo. Però non ci possiamo, come diceva anche il mister, non possiamo farne un alibi. Dobbiamo cercare sempre di continuare a giocare e magari dedicare le vittorie a lui. Bonaffini voleva il regalo. Una vittoria a Palmi non è arrivato, però il regalo è rimandato domani? È una promessa. La gara di domani sarà diretta da un arbitro donna. Si tratta di Valentina Finzi della sezione di Foligno.